Nel 2050, per nutrire i 9 miliardi di abitanti del pianeta, dovremo raddoppiare la produzione di cibo. Il cambiamento climatico avrà impatti importanti su acqua, salute, agricoltura e biodiversità. C'è un bisogno crescente di soluzioni basate sulla scienza, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Il pianeta ha bisogno di soluzioni coraggiose e fondate per trasformare una visione in realtà. Zea Yurkan ha sviluppato una tecnologia agricola innovativa, sia per eliminare la striga armontica, un'erba parassita, che è la piralide del grano turco, un verme le cui larve si nutrono delle piante di sorgo e mais. Quando sono venuto in Africa, sono rimasto molto sorpreso nel vedere il problema dell'erba striga, che è un'erba parassita che non esiste nelle Filippine o in India, e mi è sembrato un problema devastante. Il desmodio, un legume che uccide l'erba parassita e respinge le larve, viene piantato tra i filari di mais. L'erba elefante, che attira le larve e le uccide, viene piantata attorno al perimetro del campo. Questa doppia azione dà il nome alla tecnologia, respingi e attira, push-pull. Il professor Kahn è stato da poco premiato per le sue ricerche scientifiche dall'Accademia Mondiale delle Scienze, la TOAS. Dal primo pezzo di terra, da cui di solito ricavavo 4 kg di mais, da quando ho iniziato ad usare la tecnologia push-pull, proprio lì raccolgo più di 90 kg. Posso mettere insieme un sacco e mezzo di raccolto, 133 kg. Oggi prendo un po' del mio mais, qualche chilo tra quelli che raccolgo, e lo do ai bambini bisognosi. Nella scuola qui vicino, do da mangiare a 35 bambini, più la mia famiglia, 6, e fanno 40. No, 41. 41 in tutto, grazie al mio pezzo di terra. I fondatori dell'ISIP e della TOAS, Thomas Udiambo e Abdus Salam, entrambi scienziati di altissimo livello del sud del mondo, erano consapevoli dell'importanza di creare una rete stabile di relazioni accademiche per i ricercatori come loro. Con questo intento, nel 1983, venne fondata nel Castello di Duino, a Trieste, l'Accademia Mondiale delle Scienze, o TOAS. Da allora il fisico sudanese Mohamed Hassan è stato per 25 anni il suo direttore esecutivo. In quel periodo, in termini di percentuali, non più del 15% della produzione scientifica veniva dal sud del mondo e l'85% dal mondo industrializzato, che è esattamente l'opposto della percentuale di popolazione che vive in questi paesi. La TOAS offre un ampio raggio di possibilità agli scienziati del sud. Oltre 500 borse di studio all'anno per corsi di PhD e ricerche post-dottorato. Borse di ricerca per supportare i laboratori. Una gamma di programmi di scambio nell'ambito della ricerca. Premi prestigiosi all'eccellenza scientifica. Il suo lavoro è supportato da cinque uffici regionali sparsi sul pianeta. Alessandria, Nairobi, Beijing, Bangalore, Rio de Janeiro. Penso che i ricercatori di livello e con un dottorato siano essenziali per un paese. E penso che sia essenziale avere dei programmi di mobilità che permettono di andare e venire in diversi paesi e lì portare avanti delle collaborazioni. È essenziale. Vitalis Wafula Wekesa è microbiologo e insegna alla Technical University of Kenya. Grazie alla tua AS è riuscito a realizzare il sogno di una vita. Quello di specializzarsi con un dottorato al Centro Nazionale Brasiliano per lo sviluppo scientifico e tecnologico che gli ha aperto le porte di centri di ricerca negli Stati Uniti e in Europa. Quando ho avuto l'informazione che ero stato scelto per avere una borsa di studio per il dottorato mi ricordo che quella notte non sono riuscito a dormire. Ero così emozionato che non potevo proprio dormire. Vi dico, è stato fantastico. Molti degli abitanti di questa baraccopoli bevono l'acqua del fiume Nairobi. Dopo averla raccolta in contenitori di fortuna la lasciano depositare per almeno un'ora in modo da bere quel che resta in superficie, la parte più trasparente e apparentemente pulita. Siccome la bevo mi fa male allo stomaco. Ogni due settimane mi viene un dolore addominale. È per colpa di quest'acqua. I miei studenti stanno cercando di sviluppare dei dispositivi, dispositivi molto semplici, in chimica li chiamiamo sensori, che sono in grado di monitorare e possono rivelare le componenti principali dell'acqua analizzata. Prima di ricevere la borsa di ricerca non avevo nessun strumento di lavoro. Con il supporto della Toise sono riuscito a comprare una macchina fondamentale, il potenziometro, che mi permette di portare avanti tutte le ricerche elettrochimiche necessarie all'interno del mio laboratorio. Ma prima, onestamente, non avevo nulla. Quindi è come se la Toise mi avesse dato delle gambe con cui camminare, una base su cui poggiare. Penso che la Toise stia facendo un lavoro meraviglioso nel mettere in comunicazione gli scienziati dei paesi in via di sviluppo nei diversi campi. Sono stata molto sorpresa e colpita nel vedere il gran numero di persone presenti quando sono andata a ricevere il premio in Cina. La dimensione, la varietà degli scienziati, la qualità della gente presente, generazioni più o meno giovani, è stato davvero fenomenale. L'Africa ha molte risorse. Possiede il 60% della terra arabile. Non si può spiegare quindi perché l'Africa debba soffrire la fame. La stessa cosa vale per l'acqua. L'Africa ha l'acqua. In particolare l'Africa centrale e meridionale hanno l'acqua. Ma questo non significa che ogni africano abbia accesso all'acqua. Pensiamo che la Toise possa essere un intermediario tra il mondo in via di sviluppo e il mondo industrializzato per dare una risposta a queste sfide. La stessa cosa vale per l'acqua. 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 Grazie. Grazie.